A Torre del Greco l'iniziativa Natale Danzante per rivitalizzare un quartiere, quello di Sant'Antonio, a Torre del Greco tra un'iniziativa per di animazione e danza per strada. Sì, abbiamo voluto organizzare un'iniziativa che fosse in grado di animare le vie dello shopping della zona di Sant'Antonio e nello stesso tempo dare la possibilità alle scuole di ballo e alle associazioni sportive di esibirsi in un palcoscenico naturale che è quello appunto delle strade e dei piazzali cittadini. Ci siamo fatti un po' coinvolgere dalla magia del Natale perché questa iniziativa è carica di significato vogliamo proprio veicolare i valori dello sport, della lealtà, del lavoro di squadra che è un po' quello che noi come Ascom e il nostro spirito associativo cerchiamo di veicolare e ovviamente dobbiamo ringraziare per questa iniziativa le scuole di ballo che hanno partecipato all'iniziativa e in particolare l'associazione Accademia e Discipline Sportive, Danza col Cuore e Fitness Energy ed uno dei nostri associati che è il negozio Dance Store che ha fornito i materiali per le esibizioni. Fare rete fondamentale per la valorizzazione di questo territorio spettacolare che ha veramente tante energie e tante potenzialità in espresse per cui noi come Ascom possiamo fare in modo di coniugare gli strumenti, i servizi e mettere insieme queste energie. Da parte nostra massima disponibilità e col nuovo anno ci saranno anche una serie di novità stiamo cercando di coinvolgere anche giovani associazioni per fare tante iniziative.